Tragedia sfiorata in una tranquilla giornata nel piccolo comune cilentano di Stio, in una località di campagna a non molta distanza dal centro abitato. Un'anziana del posto di 78 anni mentre raccoglieva dei frutti da un albero è caduta a terra da un'altezza di diversi metri. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata provocata da un improvviso malore o da un movimento errato. Quel che è certo è che l'impatto è stato violento causando gravi ferite alla malcapitata. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi. La donna è stata trasferita d'urgenza dai sanitari del 118 all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove i medici hanno avviato immediatamente le procedure diagnostiche e l'hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per stabilizzare le sue condizioni. La prognosi è riservata anche se sembra che la fase critica sia stata superata. L'amministrazione comunale di Stio Cilento guidata dal sindaco Giancarlo Trotta segue con apprensione la vicenda e contattato telefonicamente dalla nostra redazione il primo cittadino esprime la vicinanza dell'intera comunità alla famiglia della signora che è madre del consigliere comunale Pasqualino Trotta. Le prossime ore saranno decisive per capire quando l'anziana vittima di questo incidente in campagna potrà tornare a casa a riabbracciare i suoi cari.